Alve amici del Centrometto Italiano, weekend di maltempo a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per domenica 26 dicembre. Molte nuvole al mattino, specie al centro nord, con piogge sparse intense su Liguria, Toscana e Sardegna, variabilità asciutta sul medio adriatico e sud. Al pomeriggio fenomeni diffusi al centro nord, anche su Campania e Sardegna, possibili temporali anche intensi sul Lazio. Neve, sola, quote medio-alte. In serata è notata un maltempo che si sposta verso il sud con piogge temporali anche di forte intensità, migliore al centro nord con residui e precipitazioni su Triveneto, Umbria e Marche. Temperature minime in lieve calo al centro e in aumento altrove, massime stazionarie o in ulteriore rialzo leggermente. Per ulteriori dettagli potete eseguire come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.